Sono stati ufficializzati dalla Presidente del Centro Culturale Renato Guttuso di Favara, Lina Urso Gucciardino, i nomi dei premiati con i riconoscimenti speciali nell'ambito della 17esima edizione del Premio di Arte e Cultura Siciliana Ignazio Buttitta. La giuria, composta da Lina Urso Gucciardino, Enzo Alessi, Giuseppe Piscopo, Umberto Re e Giuseppe Moscato, ha riconosciuto il merito di donne e uomini di Sicilia che hanno ottenuto importanti risultati nel loro settore lavorativo. Per il teatro, Vittoria Faro, attrice. Per le tradizioni popolari, Lea Vella, cantante. Per la pittura, Enzo Patti. E per la letteratura, Antonino Giordano, scrittore e operante a Firenze. E poi, per la sezione riservata all'impegno sociale, il riconoscimento è stato assegnato alla sezione AIDO, donazione organi di Favara per la promozione culturale alla società Dante Alighieri di Agrigento. E poi il premio Buttitta per la musica al duo Salvatore Sciacca, chitarrista, e Giuseppe Pituzzella, cantante. E ancora per la creatività artistica, Stefania Bruno di Enna. Per la comunicazione, Totò Arancio, giornalista corrispondente da Favara, per il quotidiano La Sicilia. E per l'impegno civile, Angelo Sicilia e i suoi pupi antimafia. Infine, premio speciale al capitano dei carabinieri Gabriele Treleani, per diversi anni comandante della tenenza di Favara. La consegna dei riconoscimenti del premio Ignazio Buttitta si svolgerà a martedì 8 dicembre nel castello Chiaramonte di Favara, alle ore 16.30. Inoltre, dal 30 novembre in poi, al pomeriggio, al castello Chiaramonte a Favara, si svolgeranno numerosi eventi collaterali al premio Buttitta, tra mostre, il convegno di Etno, Eno, Gastronomia, il gemellaggio con Palma di Montechiaro, spettacoli teatrali e il primo festival della canzone siciliana, Rosa Balistreri. Un ricco programma di iniziative, dunque. E così, dal 30 novembre all'8 dicembre, si svolge la 17esima edizione del premio Arte e Cultura Siciliana Ignazio Buttitta, che come di consueto si svolgerà al castello Chiaramonte di Favara. Naturalmente, ci saranno quest'anno delle novità. Ecco, il gemellaggio per tutta la durata della manifestazione, con il Comune di Palma, e tante iniziative, tutte di alto livello, diciamo, qualitativo. Ecco, parleremo di arte, con la mostra, con la personale del maestro Vincenzo Patti, avremo la mostra di artigianato siciliano di Liliana Urso, il convegno di gastronomia, la cucina del gatto pardo, la presentazione del libro America America di Ferlita Episcopo, ma ci sono anche delle novità. Novità che riguardano soprattutto i giovani, infatti avremo lo spettacolo dei pupi siciliani, i pupi della legalità, una mostra del libro dedicata solo e esclusivamente ai giovani, a cura della libreria Il Papiro di Favara, e avremo, una cosa ancora molto più bella, la gara canora di tutte le scuole della provincia di Agrigendo, ed è una gara dedicata a Rosa Ballistreri. Ecco, noi, come abbiamo sempre detto in tutte le nostre iniziative, i protagonisti sono i giovani, perché sono proprio a loro che vogliamo dire, anzi vogliamo sperare che nonostante gli agi possano effettivamente apprezzare anche le piccole cose e possano veramente trarre vantaggio da tutti gli insegnamenti che a gran voce ci vengono dal passato. E' inutile dire, il momento è brutto, ma noi dobbiamo dire ai giovani, voi ce la potete fare, l'insegnamento è rivolto a loro, quindi tanta sicilianità, tanti momenti istruttivi, educativi, momenti di riflessione, momenti ricreativi, che vogliamo condividere con tutti. Perciò, la cosa che voglio dire, con tutto il cuore è questo, vogliamo condividerlo con tutti, dal 30 novembre all'8 dicembre alle ore 17 al Castello Chiaramonte di Favara. Grazie. Grazie. Grazie.